Salve a tutti ragazzi bentornati nel secondo primo per me episodio di Tom's Vanilla Siamo con Z, Aleus e Ulisse che si è unito alla serie e da so Con Sol Whisperer Speculati Siamo qui nel mio primo episodio Perché io come un cogliono ho cancellato la registrazione con Alessio e Keledan Ma questi sono dettagli Mi dai due stecchi cosi lì No vabbè anche si No però c'è la Keledan nel suo inventario e la sua roba Ulisse mi dai uno sticchetto e due di coso che devo farmi una spada Secondo mi sto facendo le mie piccole robine Allora come vedete abbiamo costruito lo spawning game mode Come abbiamo detto però ovviamente è protetta da OP C'è da Aleus Nessun è OP e quindi non potremo rompere né prendere blocchi Si posso aprire le ceste ma sono tutte vuote come vi faccio vedere Quindi si può aprire guarda E l'ho rotto Sì perché lì non è game mode Vabbè comunque forse deve essere ancora fatto Ma in ogni caso Questo sarà lo spawn Nasceranno qui al centro i nuovi datori Addio io vado a scavare Allora ragazzi no 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 fermo Ulisse No vieni qua Aspetta 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 Milla roba che devo prendere devo farmi una spada Oh data dai Aleus lo data Tieni te la faccio io stai fermo Ok Comunque ragazzi dobbiamo trovare un posto dove metterci Cioè non so se vivremo Vivremo assieme o cose del genere No allora l'obiettivo come ha detto che è la dana di fare un Cioè vogliamo fare un villaggio nel quale stiamo appunto tutti insieme Esatto Vabbè ma circa perché guardate venite qui Ti faccio vedere una roba Prendite il cibo Oh del carbone sai È che laggiù Mi sarebbe Io avevo un paio di idee Vieni qui che ti faccio vedere Allora Aspetta prendo Dove c'è quel fiore giallo lo vedi? Io scavo Dove ti avevo detto l'altra volta a Kelly Dove avevo detto l'altra volta a Kelly Eh esattamente tipo qua Da qua che si occuperà delle ferrovie Esatto potrebbe fare una ferrovia sopraelevata al mare Esattamente Uli vieni a vedere dove sei Aspetta aspetta sto recuperando un po' di carbone di hatch Ok va beh nel caso comunque ci troviamo vicino allo spawn Ok sta arrivando sta arrivando tranquilli Non tu worry raga Non tu worry be happy Be happy Comunque cioè da queste parti qua magari faremo che ne so un tunnel Posso andare la quale possa passare appunto Ehm Pilot render distance normal Ehm Ti vedo Arrivo Ok Io ho il pc super power Io ce l'ho far in sto momento Io sto facendo 100 pps Ti fai mi restringe la nebbia Quanti Quanti 100 perchè sono appena entrato adesso nel server Quindi sto caricando un po' di spawn 192 si in circa Ehm si dettagli Perchè o tipo Ah ok Ora esce accanto Forge Non è che sia tutta sta gran figata sto posto ragazzi Eh No guarda vieni qui che ti faccio vedere la mia idea Cioè c'è un po' strano come posto Oh io ho la casa di sopra eh L'avviso La casa qua sopra è mia Comunque guardate qui Io avevo trovato questa zona qui per fare il villaggio Venite a vedere Guarda che Dove ci sono le pecore qui Sì è tutto piano alla fine Guardate qui No le pecore ad 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 Mi dispiace Non vogliamo rubare le roba ad 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 Comunque guardate un attimo Vedete che è tutto piano lì Non proprio lì leos Però Guarda è tutto piano se guardi Leos mi sopra il mio È mia quella casa Non hai capito veramente un cazzo guarda Ok mi prendo l'altro allora L'altro che sta lì Tipo con la casa qui Ok allora io inizierei a mettere giù qualcosa Tipo per segnare dove vogliamo fare questo accampamento principale Eh io direi qua in mezzo sai Perchè io ho trovato già casa Ciao pecore Sì sì beh lei in mezzo Questo che cos'è un bug Sì della luce in minecraft Ah ah Vabbè non ne hai mai visto No no non capivo se era una caverna o cosa Cioè da distante sembrava un po' diverso Ahia mi son fatto male Sai che sto morendo un po' di fame Io non è che ho tanto cibo in realtà Ho solo della carne marcia Io ho una bistecca Io recupero un po' di terra Ma comunque mi dovete spiegare Perchè a voi la terra si vede tipo strana Perchè il colop ti fa in unisco le texture io Eh ma anch'io Non ce l'ho tipo perchè non ho Eh ho la optifine ma non l'ho attivata sta opzione Comunque devi scaricare la ultra Eh ma ce l'ho ultra come si attiva Allora devi andare su quality tipo Devi andare su quality e better grass devi mettere on Ma io ce l'ho in office in questo momento Ma comunque io adesso sto tenendo la render distance normale Comuncora che ci penso perchè sto renderizzando un video Oh che carina finalmente l'ho capito va Mi stavo cervellando per capirlo sai Su un lol Hai invece tantissimo questa grassa Allora comunque Avete Prendete della lana che dobbiamo farci letti Io ne ho già uno Eh io ho fatto una pecora Quattro Io quattro ma c'è esatto Due ok ce ne ho due io di pecora Eh vabbè allora veniamo qui Dove la facciamo circa a questo punto qui sotto il canyon vi va bene qua? Eh sopra il canyon quella casa mia con la sopra eh No 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 non hai capito bene dove sono forse Eh sì sotto il canyon sei tu qua Io con la casa sopra è mia Devo dire che questo qua non è che sia la miglior pianura comunque per fare Vabbè dai non è un problema Si spiana Devi imparare a spianare Datemi della lana che sto facendo i letti Io però devo trovare un modo di salire lì sopra Sai che ci vorranno un sacco di tempo Vabbè quello facciamo delle scalette Facciamo qualcosa da me Quanti ne hai di lana? Due Passo che tipo Mi unirò in live a fare tanta roba Ficuramente farò la serie in live ragazzi Proprio perché ho già una vanilla Quindi qui faremo tante belle cose insieme ma insieme basta Yeeeh Allora Vediamo un po' ti ho troppato il letto Comunque c'è un'altra pecora che prendo però Comunque la lana Sappiamo che a te piacciono le pecore Comunque qualcuna del cibo per caso Giusto un po' No è quello il punto Possiamo iniziare una coltivazione comunque Eh sì direi falla perché se è un po' messi male No più che altro ci manca del ferro Anche quello è il problema E non mi danni Madonna Eh vedo che ho un modo di salire lì sopra Eh recupero un po' di Di erba Erba Pelina Oh lì c'è Non c'è niente Benissimo Comunque non so perché me lo chiedete Ma comunque oggi è sabato Perché nei miei video chiedono che giorno ho registrato questo video Quindi lo dico Io ho il giorno prima di quando lo metto Io dipende ma di solito anche per me è così Certo una volta è successo di farlo il giorno stesso Eh sì anche una volta Perché a me l'inizio sempre perché non avevo il pianificato Quando non avevo la parte Eh ma sapevi che puoi mettere in privato No non lo sapevo Nemmeno io sai Io ho preso la parte proprio perché volevo mettere i video pianificati Poi mi fa il tizio Ma sapevi che potevi metterlo anche in privato Ma va a cagare Fuori subito Sai che sono moreno? Non quasi riuscito a salire penso Ragazzi io sto spianando un po' qua Sto tentando di salire tanto sono morto Io ho recuperato uno stack di terra perché volevo farmi la casa lì sopra E sicuramente adesso morirò perché non so come salirci ma di tutto Io sono quasi salito Non è che siamo in hard perché se siamo in hard Ok è un hard a crescina però è bello E possiamo morire Non c'è neanche della fottuta acqua Comunque sono sopra lì Sono sopra il canyon Bene io ragazzi stoperei qui perché arriva gente a casa come al solito Comunque il prossimo episodio Vedremo come costruire la casa Penso che ci farò meno spianata lì sopra Guardami Leus Guardami Eh guardate Guardami Jack Sto volando Ciao ragazzi Guardami 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 Guardami